ovviamente trasversalmente a queste priorità il tema infrastrutturale senza il quale è molto difficile realizzare il resto e quindi abbiamo strutturato i lavori di questa conferenza seguendo queste cinque priorità, queste cinque direttrici e devo dire che dai lavori della conferenza sono arrivati moltissimi spunti interessanti dei quali intendiamo ovviamente che intendiamo utilizzare nei passaggi successivi. Ma intanto torno un attimo velocemente ai progetti che abbiamo già raccontato questa mattina che coinvolgono di partenza nove nazioni africane, il Kenya che ha come pilastro quello dell'energia e dell'agricoltura, abbiamo come obiettivo quello di lavorare allo sviluppo della filiera dei biocarburanti con un progetto nel quale puntiamo a coinvolgere 400.000 agricoltori entro il 2027, la Tunisia che ha come pilastro l'agricoltura, l'acqua, la formazione dove lavoriamo al potenziamento delle stazioni di depurazione delle acque non convenzionali per irrigare un'area di 8.000 ettari e creare un centro di formazione legato all'agroalimentare.